Ciao ragazze, vi mostro quello che ho ricevuto oggi, sono appena tornata a casa dal lavoro e mi ritrovo un pacchetto che mia mamma mi ha gentilmente lasciato, praticamente il regalo che mi ha fatto la mia swappina, tutto questo grazie a Valentina Oh 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 che ha voluto organizzare con enorme sicuramente fatica per tutte noi questo scambio di regali, io sono davvero molto felice perché mi è capitata una ragazza davvero davvero brava, veramente il regalo è stupendo e ci tengo anche poi a scriverle un messaggio personale per ringraziarla davvero di cuore di quello che mi ha donato, è una ragazza molto molto generosa, adesso vi mostro cosa ho ricevuto e capirete anche il perché. Allora innanzitutto il pacchetto era ben sigillato con questo primo sacchetto dove vabbè dietro ci sono tutti gli indirizzi e dentro c'era questo ulteriore pacchetto sempre imbottito con sopra il mio nick Silvio83 e dentro la sua creazione. Allora vabbè ho ricevuto il bigliettino che rimarrà ovviamente per me ma vi mostro soltanto quello che ha scritto sopra a Silvia Giacomo Leopardi, è veramente carino con questo timbro con tutti i cuoricini sul verde che è veramente splendido, qualcosa di meraviglioso, un pensiero comunque così anche se non è che poverina magari ha fatto chissà che però mi ha reso molto 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 felice e poi mi ha scritto diciamo due o tre cose, dice che era contenta di sapere che ero io la sua suappina ma Carla sono anche stata molto contenta io di avere le tè come suappina perché veramente il regalo è strepitoso, non ce n'è veramente, adesso capirete perché, quindi approvata al mille per mille se volevi questo, veramente sei stata davvero davvero molto brava. Passiamo a quello che ho ricevuto, beh innanzitutto c'era tutto imballato molto bene, questa qua è una sua etichetta con scritto fatto a mano, il suo nick, Yale, giusto? Spero che si pronunci così Carla, se no correggimi e niente, vi metto comunque il link del suo canale e niente, andate sotto a vedere e cliccate per andare a dare un'occhiata perché comunque è una ragazza davvero molto brava. Allora, vi mostro innanzitutto la creazione che era dentro in questo sacchettino splendido con le libellule sul viola e ovviamente più che sul viola è sul lilla, voi vedete un viola perché sapete che con le luci e ragazze tenetevi pronte, questo mi ha creato un bracciale sui miei colori preferiti che per chi va bene non ha letto sono il nero, il bianco, l'argento, mi ha creato un bracciale doc, guardate che meraviglia ragazze, davvero bello, appoggiato su questo cuscino, oltretutto Carla la misura così è perfetta, sembrava neanche farlo apposta che sei andata penso ad occhio ed è perfetta, non devo aggiungere proprio niente, è un bracciale con la chiusura, con la calamita e adesso vedrete, sapete che, ok, eccolo qua indossato, vedi Carla? Aspetta che si è girato, vedi Carla? È perfetto, non mi va per niente largo ed è un bracciale divino ragazze, divino e oltretutto se non ho capito male, è un bracciale, come mi ha scritto nella letterina, che è della Lippert è Babylon di Lippert, della Lippert, quindi veramente io non avevo, sinceramente io generalmente non vado a vedere, della Lippert ho visto, ho comprato qualche schema, però non ho mai visto questo bracciale, è veramente realizzato, è bellissimo, veramente, grazie, grazie con tutto il cuore Carla, veramente, mi ha fatto un regalo splendido, poi, cioè, non è che questo bastava, nel senso mi ha aggiunto anche altro materiale e adesso vi mostro che cosa mi ha mi ha mandato, veramente, una ragazza di cuore, non c'è parole, mi ha regalato queste madreperle, questi dischi di madreperla cerchio da 30 mm, che sicuramente mostrerò a breve cosa, cosa realizzerò con questi, perché mi piacciono davvero molto, poi mi ha regalato delle perline Togo 11-0, galvanizzato alluminio, sono 10 grammi, che ne uso veramente a bizzeffe di queste, quindi è un regalo super gradito, questi Swarovski da 3 mm verdi, oltretutto mi chiedeva Carla se mi piace il verde, sì, mi piace anche il verde, quindi guarda, mi ha fatto veramente, veramente molto piacere ricevere tutta questa roba, poi mi ha regalato una ventina di perle da 3 mm, light green, veramente belle, poi non bastava, mi ha regalato anche un rivoli da 16 mm di crystal AB, che anche di questi ne uso davvero molti, poi mi ha regalato, guardate che meraviglia, che sono questi Swarovski piccolini, verdi, che sono veramente, veramente belle, sono una decina se non erro, brillano, guarda anche questo e Carla ti mostrerò a breve cosa penso di farne, veramente, grazie, grazie davvero, e poi mi ha regalato una spedizione gratuita, valida fino a fine febbraio, di questo sito www.babu.it, che io avevo acquistato a Bologna, alla fiera, qualcosa da questo sito, quindi perché no andrò a darci un'occhiata e magari ho la spedizione gratuita se decido di fare l'ordine e niente, poi mi ha regalato dell'altro materiale del bracciale, cioè lei ovviamente ha pensato che magari non potesse andarmi bene e mi ha messo dentro del materiale con cui è fatto questo bracciale per eventualmente allungarlo, oppure mi ha messo dentro delle prove di orecchini che io intendo sicuramente completare e farmi una parurra, quindi farmi anche gli orecchini per questo bellissimo bracciale, gli orecchini in questione, vabbè, quello realizzato da lei come prova è questo qui e quindi mi piace molto come fantasia e quindi penso di rifarlo, mi ha preparato già un piccolo pezzo e io continuerò, poi niente, il materiale che ha comprato sicuramente per realizzare il bracciale che mi ha regalato, quindi questi, X-Cut 8, che non avevo mai visto e quindi sono veramente belli, poi vabbè, due anellini, le rocaille da 15, le drops e infine dei mezzi cristalli da 3 mm, tutto questo, queste ultime cose che vi ho mostrato è quello che compongono, quello con cui è stato fatto il bracciale, quindi io penso che per prendere il bracciale abbia acquistato il materiale direttamente dalla Lippert, quindi sul sito Try2Bed, quindi veramente grazie, grazie con tutto il cuore, sono una ragazza davvero generosa e questo swap mi è piaciuto un casino, sia realizzare qualcosa io per un'altra persona che vabbè, ricevere un oggetto, un pensiero, questo qua veramente grande, grande, da un'altra creatrice come me, sono senza parole, io ti ringrazio Carla, ti mando un bacio e ti ringrazierò anche privatamente e poi prima di salutarvi ringrazio anche Valentina perché come ho detto prima si è veramente fatta in quattro per tutte noi, niente, io mando un bacio a tutte voi, uno in particolare a Carla, con tutto il mio cuore, grazie, grazie davvero, ciao alla prossima!